E' stato presentato questa mattina ufficialmente il nuovo allenatore delle ragazze di Trentino Volley che si preparano alla prima stagione in massima serie. Marco Sinibaldi ha detto che l'obiettivo sarà la salvezza. Si dice emozionato Sinibaldi per essere in campo in una delle piazze più belle d'Italia. Guida quella che definisce una squadra equilibrata, obiettivo salvezza. Il livello in Serie 1 rispetto a quello della Serie 2 è un livello dove il set out deve tenere una continuità maggiore rispetto a quello della Serie 2 quindi probabilmente il lavoro maggiore sarà fatto in quel sistema. Allo stesso tempo poter lavorare anche sul sistema del break point legato a un lavoro a muro importante anche perché incontreremo giocatrici fisicamente importanti e dobbiamo cercare di contenere il più possibile quello che rispetto alla Serie 2 non c'è. Classe 88 arriva da una stagione in A2 con Montecchio dopo averne trascorse quattro da assistant coach a Chieri in A1 nativo di Colleferro in provincia di Roma è giovane ma ambizioso ed in linea con il progetto del direttore sportivo Ripassarti. Sinibaldi ha firmato per due anni sulla panchina di Trento in estate sarà anche protagonista in Azzurro visto che ricopre il ruolo di assistant coach della nazionale seniors bifemminile.